Oggi a 67 anni dal giorno in cui le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz in tutta Italia e nel resto del mondo si celebra il giorno della memoria dell'olocausto. Il premier Monti ha detto in un discorso pubblico che oggi più che mai la storia e la sua memoria chiedono l'impegno ed il coraggio di tutti ad ogni livello e che l'Italia e l'Europa stanno vivendo un periodo delicato di crisi economica ma soprattutto di valori in cui sarà opportuno vigilare affinché rigurgiti di antisemitismo, xenofobia, intolleranza non intacchino i nostri principi fondanti. Parole importanti che condividiamo in maniera convinta perché crediamo che ricordare le vittime dell'olocausto obblighi tutti noi a batterci contro l'odio e l'intolleranza del ventunesimo secolo e perché oggi più che mai si deve fare il possibile insieme a tutto quello che è possibile per impedire che le atrocità che ricordiamo oggi insieme a tutti i veleni si ripropongano. Per questo fa male ritrovarsi a commentare l'uscita infelice di Der Spiegel, l'importante settimanale tedesco che ha definito gli italiani un popolo di codardi perché gli italiani non sono una razza, questo è stato scritto testualmente. Farlo oggi al sapore amaro della rabbia perché l'unica risposta possibile sarebbe proprio quella che ha dato il giornale a noi schettino a voi Auschwitz ricordando la superiorità della razza tedesca che insieme a Dietler si è immacchiata di sangue su sangue ma rischieremo di incentivare quei rigurgiti di intolleranza su cui Monti chiede invece di vigilare e anche di abbassare la guardia. Come si dice l'istinto va controllato in certi casi, il dolore no però e quella di oggi è una giornata di profondo dolore ma anche di grande riflessione perché nessuno resti mai in silenzio di fronte all'innocenza del male che è sempre in agguato nelle grandi come nelle piccole cose e purtroppo anche nella quotidianità.